La responsabilità genitoriale e la nozione di giustizia L'incidente di Palermo, che coinvolge uno stupro di gruppo, ha scosso la coscienza pubblica e ha suscitato comprensibile indignazione. Ma mentre l'attenzione è rivolta ai presunti autori di questo crimine terribile, è importante non tralasciare un altro aspetto importante di questa storia, la reazione della madre di uno dei presunti stupratori. Le reazioni dei genitori di chiunque venga coinvolto in un atto criminale sono spesso complesse, e il caso di questa madre non è diverso. Tuttavia, il suo commento che la ragazza era una persona poco di buono ha suscitato una reazione molto negativa da parte del pubblico, e giustamente così. Cercare di giustificare o minimizzare un crimine così grave basandosi sulla presunta moralità della vittima è sbagliato e insensibile. È importante ricordare che le azioni di un individuo, sia esse buone o cattive, non dovrebbero mai essere utilizzate per giustificare o condannare un crimine. Lo stupro è un atto orribile e una violazione dei diritti umani fondamentali di una persona, indipendentemente dal suo passato o dalla sua storia. Nessuna giustificazione può essere accettata. Inoltre, come società, è importante che riflettiamo sulla responsabilità genitoriale. I genitori hanno un ruolo fondamentale nell'educare i loro figli e nell'insegnare i loro valori morali ed etiche. Se uno dei figli si rende responsabile di un crimine così grave, i genitori dovrebbero anche riflettere sul loro ruolo nell'educazione di quel figlio. Mentre condanniamo fermamente il commento della madre in questione. La rabbia e l'indignazione sono comprensibili, ma demonizzare anche lei non porta a nulla di positivo. Invece, questa situazione dovrebbe servire come un momento di riflessione per la società su come possiamo educare meglio le nuove generazioni e promuovere una cultura di rispetto e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.